Una richiesta di Chiariventi è arrivata da parte della Will FPL sulla nuova struttura residenziale H24 ad alta intensità assistenziale nell'unità operativa di salute mentale di Eboli. La struttura in questione infatti registrerebbe carenze di personale tali da pregiudicare la regolare degenza dei pazienti. A mancare in particolare sarebbero gli operatori sociosanitali, gli operatori tecnici e gli addetti all'assistenza, nonché i riabilitatori psichiatrici, gli psicologi e i sociologi. La richiesta della Will è semplice, fermare il ricovero dei pazienti in attesa che alla struttura di Eboli vengano assegnate idonee risorse. La Will inoltre ha chiesto anche un incontro urgente al manager per fare il punto della situazione.